E' martedì 6 febbraio, bentrovati con il Tg distretto di quest'oggi. In apertura ci occupiamo dell'assemblea organizzata dalla CISL nel teatro di Scandiano per accogliere i condomini finiti nella questione dei mancati pagamenti legata all'amministrazione dello studio Castiglioni. Circa 300 persone erano presenti, al momento la signora è sotto indagine della procura di Reggio Emilia dopo una serie di denunce per mancati pagamenti di utenze e manchi nei conti correnti dei condomini. Era presente anche il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, sentiamolo intervistato dal direttore Roberto Caroli. Insomma noi nel distretto questa volta abbiamo gettato un bel sasso nello stagno. No anzi grazie perché avete aperto forse il vaso di Pandora più che il sasso nello stagno e tramite il vostro articolo stiamo cercando di capire tutti, comprese le autorità competenti, di quanto sia impattante e importante il cratere che si sta in qualche modo visualizzando. È chiaro che un cinema alle 5 e mezza di pomeriggio che fa 250 cittadini interessati e anche abbastanza innervositi da un atteggiamento, è chiaro che diventa anche di interesse amministrativo cercare di essere compartecipi di un percorso che cerchi di portare a una soluzione difficile, perché è oggettivamente difficile, cercando anche di capire caso per caso, moltiplicando per un numero infinito di possibili risvolti diversi l'uno dall'altro di cosa stiamo parlando. Siamo ancora nella fase in cui stiamo cercando di capire di cosa stiamo realisticamente parlando. Da un punto di vista specifico di quello che stiamo parlando da un punto di vista generale ho paura che l'impressione sia quella che avete scritto voi nelle vostre righe. Cosa sta emergendo all'interno del teatro di importante? Beh, sta emergendo sicuramente una fragilità normativa, nel senso che non si può essere in qualche modo succubi di una eventuale truffa, se di questo si tratta, rispetto al fatto che nessuno controlli chi è tenuto a gestire i conti di tanti condomini. Forse non è corretto dire che nessuno controlli, ma che il controllo non sia così capillare, così veloce, perché è chiaro che l'utenza di un cittadino se non la paga ha una serie di solleciti che arrivano sempre al cittadino che non paga. Se con lei o colui che è tenuto a controllare, a pagare le utenze, nasconde anche i solleciti da parte dell'interrogatore dell'energia, dell'acqua piuttosto che dei servizi, nel tempo questa cosa si può sicuramente dilungare e quindi diventare un danno economico ancora più grande. L'amministrazione che cosa può fare? Beh, sicuramente cercare tutti i tavoli di concertazione anche con chi eroga servizi, da Iran a Enel a chiunque, per cercare di capire caso per caso nel proprio territorio, a prescindere dal fatto che abbia proprietà o meno, cercare di fare la parte dell'amministrazione pubblica, quindi cercare una concertazione di direzione dei pagamenti, piuttosto che la ratizzazione, piuttosto anche di cercare di fare una class action rispetto al rifacimento del danno eventualmente erogato. Ma c'è la possibilità di organizzare un tavolo comune per gli esposti alla magistratura? Assolutamente sì, ne stiamo parlando anche con gli altri sindaci, cercando di capire chi vuole montare su rispetto a un tema di titolarità, rispetto anche a una denuncia collettiva. La situazione in continua evoluzione, al momento ancora molto insicura nell'area del Mar Rosso, porta le compagnie a cambiare quasi quotidianamente le decisioni in merito alle proprie navie, questo ovviamente si ripercuote sull'import e l'export anche di questo distretto. L'ultima comunicazione ufficiale in questo senso è arrivata dalla società CMA CGM, che ha fatto sapere di avere deviato tutti i servizi inizialmente instradati attraverso il passaggio del Mar Rosso sulla rotta Capo di Buona Speranza. Questo fa sapere l'azienda per salvaguardare in primis i propri marittimi, che restano la nostra priorità. Nel caso in cui si tornerà sulla rotta di Suez, CMA CGM lo comunicherà ai propri clienti, come ha fatto finora. Una situazione, quella del Mar Rosso, che non si riflette ancora sul mercato energetico, in particolare, per la fortuna dei ceramisti potremmo dire, su quello del gas, con le quotazioni ad Amsterdam che continuano a sorridere. I future TTF, ovvero benchmark del prezzo del metano nel vecchio continente, hanno ceduto queste mattine in apertura lo 0,3% a 28,25 euro al megawattora. Questa sera sul palco di Sanremo, voltiamo decisamente pagina, ci sarà anche un sassolese, Filippo Neviani, Necchi, insieme a Renga, canteranno il pezzo Pazzo di te. Sentiamoli in un'intervista doppia con Andrea Lanfranchi, del Corriere della Sera. Questa è la canzone in realtà che è figlia di un momento preciso, perché da uomini, e questo ci teniamo a sottolinearlo, adulti, maturi, abbiamo sentito proprio l'urgenza in questo momento di raccontare un amore adulto, maturo, e abbiamo sentito proprio la voglia di raccontarlo in questo modo, su questo palcoscenico. è stata una scelta tra l'altro dei nostri figli, sono state loro, le nostre figlie, a scegliere questa canzone. C'erano in ballo due cose, però io credo che anche loro, alla luce dei racconti, di amori... Ci teniamo a sottolineare, oltre al concetto ampliamente esteso da Francesco, che la canzone dal punto di vista melodico, strutturale, è una canzone che riporta ecchi di pezzi anni Sessanta. Avete detto quasi ai Sanremo in biancarina. Esatto, almeno questo è il nostro percepire, la canzone. La narrazione parte anche dagli outfit, se tu poi vedrete, adesso non vorrei spelerare troppo, però c'è tutto un racconto che parte... perché quelli erano gli amori raccontati così come vorremmo raccontarlo noi, quindi fatti da grandi voci, grandi cantanti, grandi autori, quindi la canzone che, come diceva Filippo, ha questi ecchi degli anni Sessanta, perché quello era l'amore raccontato come secondo noi si dovrebbe raccontare anche adesso. Veniamo alle novità di prodotto con la rubrica eccetail.com. Il sito è www.eccetail.com, dedicato a tutte le novità di prodotto, protagonista di oggi, Vulcanica, di marca Corona. Vulcanica è una superficie ispirata ad un metallo, quasi metallizzata, quattro colorazioni più neutre, quasi delle basi, il platino, l'argento, il grafite, l'ottone, un colore neutro sull'tonalità del caldo che non è il classico Corten, è invece un materiale dalla colorazione più sofisticata, sicuramente più elegante e decisamente più nuova, di cui abbiamo anche una versione per esterno. A questi quattro basi due colori, due colori che sono le ossidazioni classiche del rame. Il verde rame è quello che noi abbiamo chiamato azul, che è l'ossidazione della superficie rame quando si usano degli acidi a base di fosfato. Anche quest'oggi chiudiamo con la montare del debito pubblico italiano, superi 2861 miliardi di euro. Arrivederci. Anche quest'oggi chiudiamo con la montare del bambino